eccoci qua popolo youtube stiamo andando a vedere il rally mattia dici com'è il tempo qua fuori meno sarà meno 4 alle 7 e mezza di mattina il pilone ti ho can che hai da farci l'arum tra le macchie e o 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 eccoci qua ho avuto qualche problemino il telefono era a scarico pochi video spero vi sia piaciuto lo stesso abbiamo fatto una doccia bollente perché è un freddo i piedi congelati spero vi sia piaciuto il video sono trovati il link di iscrizione di facebook, instagram, twitter tutto quello che volete e cliccate, spolliciate al prossimo video